11 novembre 1806 muore Michelangelo Arcangelo Pezza meglio noto come Fra Diavolo impiccato in piazza mercato a Napoli per ordine del generale francese Hugo è per alcuni un semplice brigante per altri un eroe della resistenza borbonica nel periodo delle guerre napoleoniche è protagonista di azioni di guerriglia contro l'esercito francese che nel 1799 invade il regno di Napoli